Il mio reggisimo ti vede un cazzo Aia Si lascio questo il letto qua fatto di merda che cos'è? Sta pure al letto Ah questo è un letto Poi ci chiamoci a massa Tipo no 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 quella era chiusa la porta No è sempre sempre aperta No un z chiude del tutto Poi z dati in ginocchio Poi fa cosi Ah Proprio si Che banghiamo Che cazzo Oh Oh I cannoni della barba Vabbè eh Allora facciamo Facciamo il drum call prima Eh bravo qui volevo fare Aia 3 2 1 No Che banda signori Che banda signori Una buona Che estra Oh cazzo Oddio io Oh Bellissimo Oh c'è sei fuoco Ci sto cantando c'è sei fuoco Eh c'è sei fuoco Se ne va buona Ah ah Che banda la coordinazione Che Se premi C dici tipo qualcosa Il mio non parla Eh devi finito suonare è finito dai premici vedi lo stesso carica ciao oh cazzo questa che c'è il bravo vai io sto ancora vivo si ma sto subendo i flauto o in arpa? ah no beccato che non ci stai non è un server che a squadra se no giocavamo serio a me sono il gestiamo grazie per la seconda grazie grazie Grazie.